Questo è un zanzaro, no? Che stai spetticato? No, perchè non c'è la corsa, perfetto. Ti puro i pezzi per pulsarti, no? Ti puro i pezzi per pulsarti, ti puro i pezzi per pulsarti. Ah vabbè, qua tengo tutto questo, se no, come faccio? Lave i banchi e i pompatori, la portano tutta la cascina, il cacio rosso per te ne va. No, tengo un altro senza questo, vuoi? Non posso dire, vuoi? Mi porta qua, vuoi? E' facile. No, non c'è nessuno. No, non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Sono pochi capelli. Ehi, capelli. Si sape già. Non c'è nessuno. Ma quando si sape già, come c'è nessuno. Ma... hai fatto la doccia qua nonna così cazzo non puo' correre la sua rossa ma... devo fare... faccio ieri allora... tutta cosa qua questo ma... ma questo non metto per niente la madre ma lo lascio qua la maglietta la voglio portare un po' è tardi non lo lascio sotto ok questo è qua ma quello che c'è là ma che albero è? che albero è nonna? ok ok ah è